Adesso facciamo una minestra di verdura con l'aggiunta un po' di una rapa rossa e della carne di manzo che così resta un po' un piatto unico. Abbiamo pulito due patate, due carote. Adesso prendiamo le carote, un po' che piccole delle patate perché mettiamo tutto assieme. Qua al sedano vogliamo togliere un po' di fili. Mettiamo un po' di poro. Mettiamo un po' di porno. Mezzo. Mettiamo un po' di filo. No, non è un po' di filo. È meglio la casa, ma cosa è! Tagliamo della carne di manzo a canzettini che mettiamo dopo a cuocere insieme le nostre verdure. Dopo aver lavato le nostre verdure le mettiamo dentro a freddo nella padella con la carne che abbiamo tagliato, tutto a freddo così senza fare soffritti altrimenti così con il soffritto dovrebbe essere molto più grasso. Adesso abbiamo messo a bollire la nostra verdura, mettiamo adesso un po' di sale e tagliamo anche la nostra laparossa che andremo a mettere nella zuppa di verdura. Con qua la nostra zuppa è pronta, più che lo gradisce si può aggiungere i crostini di pane. tra notizie Baby, don't you wanna go?